Eccoci qui con mister Mauro Mazza. Mister, che partita è stata quella di oggi? Credo che sia stata una partita veramente bella da vedere, con un ritmo secondo me importante. Si affrontavano due squadre che hanno veramente delle qualità importanti per questa categoria, quindi credo che alla fine il risultato sia giusto. Lei ha anche affrontato la Samba all'andata, secondo lei quali sono le differenze tra queste due squadre, tra la Samba dell'andata e la Samba del ritorno? Chiaramente credo che ci siano dei giocatori che all'andata non c'erano, quindi diciamo che a livello di Rosa si sia completata in una maniera più ottimale. Sicuramente poi all'andata, diciamo, noi giochiamo la prima giornata, quindi diciamo non avevano una preparazione vera effettuata, quindi chiaramente le differenze sono sostanziali. Nell'arco della partita la sua squadra ha avuto diverse occasioni, secondo lei cosa è mancato oggi? Ma sì, diciamo che abbiamo avuto forse delle occasioni potenziali importanti, negli ultimi 25-30 metri potevamo essere leggermente un po' più qualitativi, anche un po' più di calma. Aremmo fatto delle scelte un po' più giuste, però la prima partita dopo quattro settimane di stop non è facile da affrontare, quindi devo fare come veramente i complimenti ai miei ragazzi. Secondo lei qual è il punto forte della Samba elettese? Ma la Samba credo che ne abbia tanti di punti di forza, basta venire i cambi che ha effettuato, quindi sicuramente è una squadra che nel girone di ritorno farà cose importanti. Grazie mister e in bocca al lupo. Grazie a voi.